salve a tutti un saluto da macinator e oggi ci troviamo in una giornata super piovosa ma nonostante tutto non ci arrendiamo anche perché le battute precedenti ci hanno reso molto felice specialmente anche quella nell'ora notturna sono venuto a dare un occhiato in punti un pochino più aperti e come entriamo che bella sorpresa vi faccio vedere ma perché mi dicevano degli amici che non nascevano più ma io devo dire la verità entro cinque minuti e guardate un po qui che bella sorpresa guardate qui che bel nero ma guardate qui che altro bel nero che c'è qui dal mio ginocchio ma guardate qui che altro bel nero ma che spettacolo e vabbè quindi iniziamo un pochino a raccoglierli e sono belli freschi di nascita un bacio a dopo e gli faccio vedere questi fondi qua nell'erba che sono una magnificenza perché io con questi fondi qua divento pazzo divento super pazzo ma che meraviglia che funi e non è finito seguitemi guardate qua ma guardate qua ma che bello ma che bello sto cappello dedicato a voi ma continuiamo eh allora ora dopo la goduta di prima vi faccio vedere cosa c'è qua guardate qua guardate un po guardate un po qui che sleppa guardate qui che sleppa e è finita nonno 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 e qui cosa c'è oh c'è un altro ma è finita no nonno non no no qui c'è un altro eh ma è finita? E ora non so se è finita, andiamo a vedere un po' più in là, andiamo a vedere 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 più in là, ma cosa c'è qua? Godete ragazzi, cosa c'è qua? E non è finita, cosa c'è qua? Ma continuiamo? Dopo, dopo però. Ora, dopo aver raccolto quelli, vi faccio vedere una bella cosa, allora, guardate un po' qui in mezzo, che bella slurpa di fungo, ma pensate che sia finita? Andiamo un po' più avanti, guardate qui cosa c'è, ma che spettacolo, e qui un big gigantesco, e qui? Ma cosa c'è qui in mezzo? Un altro fungaccio? Ma sì, e questo qui è niente, vi faccio vedere dopo che ridere. Dopo aver rimpinto la prima cesta, adesso vi faccio vedere qua, in questo cespugno, qui dentro, ho trovato una bella sorpresa, ma guardando qua dentro, se voi venite a vedere, guardate un po' qua cosa c'è, guardate che meraviglia di fungo, ma godete con me, ma state godendo con me, ma guardate, guardate qui, guardate che magnificenza, guardate che spettacolo, state godendo, eh? state godendo con me, ma guardate che magnificenza, ma guardate che roba, ma guardate che roba, ma guardate che roba, sa di buono, dopo, uno, che ancora bello bianco, che spettacolo, guardate come è bello fresco, che bello, che goduria oggi ragazzi, mi sono andato un attimo a cambiare nella macchina, perché ero già zuppo, ho provato a vedere un'altra costina, e qua nel ripido vi faccio vedere che cosa ho trovato, guardate un po' qua, guardate un po' qui, guardate qui, guardate che spettacolo, c'è anche un pochino di nebbia, visto la pioggia, e ecco qua, guardate che fungo, guardate qui che fungo, guardate che meraviglia di fungo, guardate qua, guardate che fungo, guardate che fungo, mamma mia, che fungo, mamma mia, che spettacolo, oh, che spettacolo, ok, eccoci qua, a fine battuta, direi che oggi, diciamo, abbiamo potuto godere tutti quanti di innumerevoli ritrovamenti, tanti funghi, in tutte le situazioni, nelle foglie, nell'erba, e devo dire che comunque la fortuna oggi ci ha assistito, perché dicono che comunque ci vuole anche tanto culo, e va bene, abbiamo culo anche stavolta, io voglio farvi vedere il tutto, di quello che sono riuscito a, diciamo, mettere insieme, godendo con voi adesso di queste catture qua, vi faccio vedere, una, ok, e due, due bei cavagnoni di porcinazzi, ok, io direi che con questa qui possiamo anche concludere la nostra battuta di funghi, dandoci appuntamento alla prossima volta, sicuramente con almeno il doppio o il triplo di queste catture qua, alla prossima, un saluto a tutti da Macinator, ciao!